L'obiettivo era chiaro, creare un sistema di gestione degli appalti in Calabria per cui alla fine tutti sono contenti. Così si esprimeva l'imprenditore Gianluca Bagalà, uno dei principali indagati delle due inchieste Cumbertazione e Cinque Lustri, eseguite nella giornata odierna dalla Guardia di Finanza con il coordinamento delle DDA di Reggio Calabria e Catanzaro. 33 soggetti sottoposti a provvedimento di fermo, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e associazione per delinquere aggravata dall'aver agevolato l'Andrangheta. 54 le aziende sequestrate in tutta Italia. Le indagini hanno svelato come il gruppo imprenditoriale Bagalà, legato al clan Piromalli di Gioia Tauro, abbia truccato almeno 27 gare indette da diverse stazioni appaltanti anche grazie alle complicità di alcuni funzionari pubblici. Il cartello delle imprese coinvolto nell'affare illecito era composto da 60 società. Spiccano sul fronte regino i fermi dell'ingegnere Pasquale Nicoletta e della sorella Angela, dirigente del comune di Gioia Tauro, ma anche dell'imprenditore Giorgio Morabito. A Cosenza invece è stato appurato il collegamento fra il gruppo Barbieri, titolare delle opere più importanti degli ultimi anni, con il clan muto Lanzino Ruappatitucci e Piromalli. Un rapporto consolidato da una fitta rete di interessi economici e finanziari per un valore complessivo di appalti pari a 100 milioni di euro. Consolato Minniti per la CNews 24